Allora sono qua in Solidworks e volevo farvi vedere come cambiare il colore alla curvatura. Noi in valutare, ok sono qua in funzioni, vado clicco qua in scheda valutare, posso andare a vedere la curvatura, visualizzare una parte o una assieme con colori diversi secondo il raggio locale di curvatura, secondo il raggio di curvatura. Ok, è implicito che sia locale, ma è il raggio di curvatura, ok, e dunque vado a cliccare curvatura, ok, e in questo modo si colora il mio pezzo. Naturalmente quando vado qua la curvatura è zero perché è un piano e avrò naturalmente il raggio di curvatura teoricamente infinito. Mentre quando avrò il, dopo qui, questi colori sono settati in opzioni, ok, dunque se io mi metto qui oggettivamente vado a vedere che qui ho una curvatura di circa un decimo e ho un raggio di curvatura attorno a 8 e poi spostandomi verso il nero naturalmente il raggio di curvatura diventa più grande e la curvatura diventa più piccola. Questo settaggio dei colori si vede, si vede qua, cioè nel senso, andiamo per vederlo e per cambiare il settaggio perché standard è la curvatura è tra 1 e 0, però io la curvatura posso anche aumentarla, ok, e dunque io potrei andare a mettere, per vedere il colori o per cambiare il settaggio, potrei andare in strumenti, ok, opzioni, proprietà del documento e visualizzazione modello e andare qua su curvatura. A questo punto io, vabbè, avevo già cambiato, però in realtà, avevo già cambiato, bisogna, cioè il standard che viene fuori è 1 e faccio applica. Vediamo, ok, andiamo a vedere se l'ha applicato 1, però io questo qua lo posso cambiare, potrei mettere anche 100, ok, e posso poi andare a cambiarmi tutti questi valori. Naturalmente non posso cambiare i colori, posso cambiare questi qua, potrei mettere, vediamo se funziona anche 001, vediamo, applica, no, è tra 1000, dunque, io posso fare 0.005 e 1000, dunque andiamo a vedere se riusciamo, 0.005 e vado a mettere 1000. Naturalmente nel mio caso particolare non serve, ok, dunque come valore fisico, come valore teorico potrebbe andare all'infinito, come valore pratico con Solidox andiamo su a 1000, a questo punto, oh, caspita, ho sbagliato, andiamo a curvatura, 1000, e questo qua si adatta, naturalmente io magari a seconda delle mie esigenze potrei decidere questi qua più alti, naturalmente ho 1, 2, 3, 4, 5, ok, per adesso lo lascio qui, faccio applica e faccio ok. Dunque ricapitolando, faccio ok, vediamo, questo è diventato più, nel senso più uniforme, perché naturalmente mi sono allungato, dunque il colore mi dice che qua c'è più uniforme, se voglio essere più preciso andrò a mettere, a modificare i valori, dunque ricapitolando, come faccio ad andare a mettere, a cambiare i colori, vanno in strumenti, opzioni, proprietà del documento, non proprietà, ma visualizzazione modello, mi sposto qua, curvatura, e qua poi modificherò i valori, come ritengo giusto, adeguato per la visualizzazione di quel pezzo lì, ok, dunque io quasi quasi ritorno su 1, ok, e faccio ok, faccio ok, naturalmente un pochino è cambiato, vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.